Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Date le funzioni f e g, determina l'espressione analitica di f composto g e di g composto f. In pratica, date le funzioni f di x uguale x meno 2 e g di x uguale x elevato al cubo, vogliamo determinare f di g di x e g di f di x. Osserviamo che se f di x è uguale ad x meno 2, f di g di x è uguale a g di x meno 2. Quindi se f di x è uguale ad x meno 2, f di g di x è uguale a g di x meno 2. Ma g di x è uguale ad x al cubo, quindi f di g di x è uguale a x al cubo meno 2. Allo stesso modo abbiamo g di f di x. Noi sappiamo che g di x è uguale ad x al cubo, quindi g di f di x è uguale ad f di x elevato al cubo. Ma f di x è uguale ad x meno 2, quindi g di f di x è uguale a x meno 2 elevato al cubo. Quindi ripetiamo il ragionamento. Abbiamo f di g di x, sappiamo che f di x è uguale ad x meno 2, quindi f di g di x è uguale a g di x meno 2. Al posto della x abbiamo sostituito g di x, ma g di x è uguale ad x al cubo, quindi g di x meno 2 è uguale ad x al cubo meno 2. Allo stesso modo, quando abbiamo g di f di x sappiamo che g di x è uguale ad x al cubo, quindi g di f di x è uguale a f di x elevato al cubo. Abbiamo sostituito anche questa volta al posto della x, f di x. Quando consideriamo f di x elevato al cubo sappiamo che f di x è uguale ad x meno 2, quindi f di x elevato al cubo è uguale ad x meno 2 elevato al cubo. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara vi ringrazio per averla seguita.